Sono addosso i robbi con gli elmi d'oro, ma ti pare? Ok, siamo in un punto interessante. Questo sembra ancora più interessante di quello di... PORCO! Ok. Niente, tutto... Ok, buono. Il panico in questa grotta. Ferro. Vabbè, cosa potrebbe esserci se non del... No, 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 dov'è? Dov'è? Dov'è cazzo? Dov'è? Forse... Ok, che volevo una grotta, però qua l'azione diventa... Oh, Batman. È arrivato Batman. No, no, gli zombie non li reggo, gli scheletri. Allora. Andiamo un po'. Sì, sì, quella era... Era paura... Era paura pura quando mi è comparso quel coso. Lasciate stare, era... Oh, questo ha già rotto le palle, deve morire. Toh, muori, coglioni. Allora. Vediamo. Un altro, trolli. Ecco lì, uno zombie che si sta facendo di bolle d'acqua, tipo. E mille, mille bolle blu, le mille, mille bolle blu. Ta-ta-ta-ta-an. Ta-ta-ta-an. Dell'altro oro. Vediamo. Allora, per prima cosa devo chiudere questo. Che cazzo? Poteto! Ok. Cos'è? Un canyon! Wow! Finalmente! Non ho trovato niente per 25 milioni di episodi. Dopo 25 milioni di episodi trovo la più grande quantità di grotte naturali, mostri, sotterranei e canyon dell'universo. Wow! That game! How is home? Allora, prendiamo sto cazzo di pietra, ferro, tutto mio. Un po' di questo. Sì, guarda, potrei morire nel canyon, sono contento, ormai ho realizzato un obiettivo. Trovo un canyon, buone. A posto, posso morire. Prendiamo tutto il ferro. Ok. Altro ferro. Niente, questa mappa c'è davvero solo ferro, cazzo. È proprio odiosa. Mi metto davvero a fare tutti i percorsi di minecart che vanno in giro, cazzo. Qua c'era l'oro. Guarda, quante grotte! Qua vedo da un'altra posizione. Ah, qua vedo tutta la redstone. Ah, qua è pericoloso, mi andè. Ah, senza dei brutti rumori. Non male. Questa grotta sembra bella pesante da esplorare, mi sa che... Ok, qua è il rumore dello scheletro che mi spaventa. Mi sa che conviene dedicargli i prossimi episodi per una grande esplorazione e rastrellamento di tutti i mappopo. Che cazzo! Troppo forte Troppo forte Grande mi è andato pure un pezzo di Cosa Da qua quindi Arriva della brutta gente Facciamo così Sapete cosa vi dico Il buon vecchio metodo A posto Ma What the fuck Dov'è arrivato sto cosa Chiudiamo qui Chiudiamo qui Sto cosa già non mi piace Chiudiamo sto cosa Ok Vediamo un po' Torniamo alla nostra casetta Ecco qua sento rumori brutti Eccolo lì Eccolo lì Nascondiamoci qui Così lui arriva Non lo sa che io sono qui E lo fotto Guarda bam 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 Muori a posto L'ho fottuto GG Too strong for you Allora Ma perché sono spawnati tutti sti zombie qua Che boh Sì ma Che cazzo c'è dentro qua Davvero fanno un miliardo di rumore Sti zombie Sti cose Vabbè Saliamo Allora Dov'è la salita What the fuck Che cazzo è Ma è qua Ok Allora mettiamo un altro Un'altra indicazione No Non posso costruire Un bellissimo blocco di Di pietra Quindi Cosa potrei mettere Che Che mi può far ricordare Che è qua Allora Questo Vabbè Forse non me lo fa ricordare Molto bene Sta cosa Vabbè Sì Potevo mettere una torcia di redstone Effettivamente Vabbè Avrò quel Avrò quel coso inutile Che mi farà dire Che cazzo è sta merda E andare avanti Eh Bababababababam Parabarabarapam Sali 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 No qua devo davvero Fare delle scalette Non è possibile Eeeh Pianta le patate Piantiamo ste patate Cazzo Che palle Sti cosi Che fanno il rumore Più brutto Dell'universo Sopra la mia casa Serio Perchè non lo Ah perchè ho l'inventario pieno Non capio Dicevo Boh What the fuck Allora Ok Allora Metto velocemente Le due patate Ok Ripianto questi E poi Eeeh Bababababam Direi che Gli episodi dell'hardcore Per ora Finiscono qui Eeeh Ora proviamo un po' Di minecraft Magari Hunger Games Esattamente Quindi Ai prossimi episodi Per chi è su youtube Alle prossime Streaming Per chi segue Eccetera Allora